Per parlare il deputato Mantero, prego, nella facoltà. Sì, grazie Presidente. Per annunciare che voteremo a favore di questo emendamento, anche se non è al contrasto totale della pubblicità del gioco d'azzardo, ma solo parziale, come diceva il collega, comunque è già un passo avanti. Io vorrei domandare all'On. Capezzone e alla Commissione perché abbiano tutta questa difficoltà a fare il purché minimo passo per contrastare il gioco d'azzardo che, ricordo, riguarda potenzialmente 3 milioni di giocatori patologici e per andare almeno una volta a favore dei cittadini. Mi chiedo se forse sono preoccupati perché le concessionarie poi non gli finanzieranno più la campagna elettorale, forse è quello?